Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione e a condire il tutto la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, signori della 7D, amante della cucina, appassionati, dilettanti e perché no anche persone semiprofessioniste che ci rubano un po' di ricette. Grazie anche ai consigli e alle critiche della mia giuria. Fiammetta Fadda. Riccardo Rossi e Chiara Marci in Verde Speranza oggi. Allora abbiamo da Castiglione di Sicilia Lucia con la nipote Cristina sfida in famiglia in famiglia Allora, la provenienza ci fa star tranquilli perché abbiamo sempre mangiato bene con Cucina dal Sud. Vi spiego brevemente le regole. Quattro prove. La prima serve un po' a scaldarvi i fornelli e farvi abituare agli spazi e soprattutto a far capire dopo chi sceglie il tema o l'ingrediente della prova successiva. E lì di punti in palio. Ce ne sono eccome. La prima è di manualità. Quando è fatta così è il mio antipasto preferito invernale. Tartare in punta di coltello o battuta di carne. Cioè, come va fatta la tartare? Non si passa al macchina carne. Ci vuole veramente mano e abilità con le lame. Tre minuti per farla. Anche piccolina, ma mi interessa che sia tagliata precisa. Anzi, gli interessa. Via! Potete utilizzare il coltello del vostro gusto e piacimento. Coltello grande. C'è poca dimestichezza con i coltelli. Con i coltelli. Come mai secondo te? Non c'è una cultura... Vuoi la mia teoria? La vorrei sentire per l'appunto. Prima, fino a sei anni fa, così. Il centro commerciale aveva qualcosina di prelaborato. Trovavi magari qualche insalatina pulita, qualche piatto pronto di gastronomia. Adesso ci sono più piatti e più verdure, tutte prelavorate, già pulite, già tagliate. Cioè, il cespo di lattuga, quello così, addirittura una volta non riesco a trovarlo. Questo comporta, sì, facilità di lavorare meno gli ingredienti a casa, ma poi alla fine si perde un po' la mano nel fare le cose. Ad esempio, la tartare, tutti si prendono anche il macinato scelto, però magari te lo fanno al momento, però macinato. Magari è passato anche due volte. Però la lama sfibra la carne. Il concetto è anche questo, è che effettivamente il coltello di qualità, una volta che si prova, poi non si torna più indietro. Guardate, vi parla uno che veramente ha utilizzato i coltelli, proprio le nonna, che si trovavano negli anni 70 nei detersivi. Nei fustini dei detersivi e non facciamolo mi marco. E anche a sorpresa, se infilavi la mano perché ho il coltello così. Appunto. Qui, una volta che uno prova il coltello di grande marca, il coltello dello chef, allora, qualche fiamme, dove appunto arriva... E che te li ha regalati questi bei coltelli, Riccardo Rossi? Diciamo che Simone ha cercato un qualche mollo. Non lo dice, guarda. È stato Simone, è stato Simone. Scusa, però vorrei dire che una volta che ce l'hai il coltello, che sia di qualità o non di qualità, lo devi tenere affilato. Oh, e infatti ti volevo chiedere, mi serve l'acciarino, che non c'era nel regalino, quindi me lo fai avere? Ma secondo me è meglio se te li prendo e te li faccio io, perché poi va a sapere usare l'acciarino. Per chiudere, la prova che stanno facendo ha questo di base, visto che noi cerchiamo di ripristinare queste, tra virgolette, tradizioni. Mancano pochissimi secondi. Va prima a striscioline, poi a dadini, e poi da lì si batte per rompere eventuali filamenti nervosi. Quindi la battuta, ci si sfoga anche. Piatti sull'alzata, tre, due, uno, stop. La forma mi interessa il giusto, vi dirò la verità. Anche perché il dadino è un'altra cosa rispetto alla pappina. Posso? Brava. Dico solo questo. E per aiutare la mia giuria, direi di rompere la forma, adatta così vedete l'omogenità dei cubetti. Non è facile. Sono uguali. Sono uguali. Prendi un coccio, fai un soffritto, buttalo dentro, facciamo ragù. Tanto. Sono uguali. Che facciamo? Non faccio decidere le ragazze. Forse quello è più tagliato piccolino. Forse. Cristina. Va bene. Bene. Cristina, forse, brava e uguale, ma forse ha fatto i dadini più precisi. Allora, qui si cade in piedi. Miudi o Maccheronata? Maccheronata. Maccheronata. Mi piace come nome? Maccheronata, braconata. Maccheronata, semelata, la brucolata. Va bene. La maccheronata è il piatto per la prova di abilità. Allora, maccheronata, quindi, della pasta, possibilmente corta, ovviamente, perché maccheroni può voler dire tante cose, quindi rigatoni, mezzo pacco, la calamarata vedete voi, ricettata e resa molto gustosa. Per fare tutto questo vi serve, oltre all'acqua che vi ho dato io, ingredienti che sono dietro di voi. 30 secondi soltanto per prenderli, altrimenti il campanello lo dovete utilizzare per tornare dentro e non per avere un aiuto del sottoscritto che vi consiglio di usare se avete buono. Via! 30 secondi! Vai, vai, veloce, non vi scordate di niente. Noi facciamo una sorta di norma gratinata, quindi, tre melanzane grandi, uno spicchietto d'aglio, una cipolla bianca, 220 grammi circa di polpa di pomodoro in scatola, basilico a volontà, pecorino romano e grana in parti uguali, olio per friggere, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e una bella mozzarella di bufala. Tonno rosso di qua, salsiccia e lepre. Stop! La pasta? La pasta? Oh, sì! A monte! Come la mettiamo adesso? Come la mettiamo adesso? Via 10 minuti! Scelgo io però! Ho preso la più piena! Allora, dopo aver fatto questo, vai vai, puoi iniziare, ho già dato il via! Ok! Allora, dopo questa salvata che ti ho dato, perché ho guardato negli occhi di Riccardo Rossi, uno smarrimento! Una sorta di, esatto, uno smarrimento! Sai come quando il bambino esce dall'asilo e non trova la mamma, no? Mio figlio! Ah, perché lo molli all'asilo così? No, mio figlio quando non mi vede a scuola impazzisce! Eh, Riccardo, quando non ha visto, cioè, poteva mancare qualsiasi cosa, ma quando non ha visto lì la pasta... È fritta! Allora, per questa salvata che ti ho dato, tu dovrai spiegarmi adesso tutta la ricetta senza che io ti interrompa! Allora, preparo un soffritto di cipolla, aglio, ci metto anche il sedano, un po' di tutto! E faccio soffriggere, poi faccio soffriggere anche la lepre, che è già cotta, che è già cotta, sì, e poi ci metto la passata, scusami un attimo... La salsiccia non la metti prima della lepre? Sì, ma la faccio a parte! Ok, quindi è un bello ricco! Allora... Sì, io non faccio come vuoi, faccio a modo mio, non uso il tagliere per tagliare... Ho detto qualcosa? No, ma mi sono... Sai come si diceva a noi, mi sono bagnata un po' prima di piovere, per non ricevere un improvero... Ma per un semplice motivo però, perché questa è un'abitudine, non ha dei vantaggi... No, sicuramente... Appena che non ti fai addirittura, se fai così col coltellino seghettato, poi ti fai tutte le rigature, fino a che... all'aglio così? Sì. Tutto col germe interno? Sì, 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 sì. Dunque, ricordiamo che la pasta cuoce in... Ecco! Dieci minuti. Buttatela! Dieci, le mancano otto, quindi arriva con due minuti troppo di... Di ritardo. Oh, metti una cosa che io adoro nel ragù con la salsiccia. Cosa è? I semi di finocchio. Certo. Che li mettiamo normalmente, almeno io, li metto normalmente in tostatura con il fondo, perché tostati vengono tutta un'altra... Certo. Tu quando li metti? Metà cottura. Quando gli avare? No. Guarda, hai fatto io una cosa. Allora, lei non è proprio nipote nipote, è acquisita. Chi è lui, il nipote di Lucia? Il mio fidanzato. Carmelo. Carmelo. Ah, Carmelo! Cammelo! Come si poteva chiamare? Cammelo, come è cusina? Carmelo Salvatore. Come è cusina Caterina? Cristina. Cristina, scusa. Caterina, mamma mia. Cristina, Cristina. Guarda come va guardando. È come cucina allora. Come cucina? bene. Lo vedremo. Ok, vieni la ricetta. Tonno, quindi tu hai la cottura almeno più veloce. Oh, questo... non sono molto ordinata io, non so se lo stai notando. Se ti regalo il kit di cuoche e fiamme, se vinci, mi raccomando, non lo distrae. No. Questo mi piace molto, vedi? Devo aggiungere? Il finocchietto nell'acqua. ora lo devo uscire anzi. Spiega. Aglio, capperi, capperi, sotto sale, sotto aceto no perché hanno un sapore troppo forte, non mi piace. sempre dissalati. Va bene. Poi metto i pinoli. Poi girmi perché sennò schizza tutto. lo devo mettere più piano. Bravo. La pasta l'ho già messa, questa mi rilassa. La pasta l'ho messa, ora esso... Si torno a cuocere un attimo, vero? Non tanto, altrimenti si asciuga. Sì, si asciuga troppo. Lo bagno col vino bianco, prendo una ciotolina. Va bene. Allora, di qua è abbastanza easy e comunque conterranea. Cioè, è più riconoscibile come ricetta, comunque facile, finocchietto e pesce. Di qua invece non mi aspettavo di vedere della lepre. Dimmi soltanto com'è cotta, sbollentata? Sbollentata con alloro e limone. Così, se la nostra signora Maria a casa vuole rifarla, sa come farla. Ti lascio lavorare. Allora, abbondante olio per friggere, tagliate le melanzane a dadi piuttosto grossolani e le friggete. Il fuoco deve essere alto, quindi friggetele poche alla volta, altrimenti impregnano olio e diventano mollicce e unte. Le asciugate su carta assorbente e le pressate anche un po', anche se perdono la forma, ma va via olio in eccesso. Il fondo è facilissimo, il cipollotto tagliato a fette, sottilissimo e fatto stufare con l'olio. A metà si aggiunge l'aglio, che serve solo a dare un profumo, quindi tre minuti e poi lo togliete. Aggiungete la polpa di pomodoro, fate un sugo classico di pomodoro profumato con tantissimo basilico aggiunto quasi alla fine. Quando il sugo è pronto, aggiungete le melanzane cotte dentro e ci saltate la pasta. La disponete in teglia, appena oliata, con la mozzarella sopra, la mettete in forno, chiamate 26 vostri ospiti e godete a parmigiano e pecorino in mantecatura. L'ho data, golosa, filante, buona, è una sorta di norma pazzesca. Io l'ho data così, è buona subito, ma rimessa in cottura, tipo gratinata, il rigatone, viene un effetto biscottato sopra, è morbido sotto, pazzesca. Allora, quando vi sposate? Ancora non si sa. Ah, pensavo di metterti più in imbarazzo invece. è da poco tempo che siamo fidanzati, quindi ancora. Quanto che? Da poco tempo che siamo fidanzati, ancora ci dobbiamo conoscere. Allora devi anche convincere l'anzia. Quanto è che siete sfidanzati? Quest'anno 11 anni. ancora siamo piccoli. Non dovete dire queste cose, mia mamma vede le puntate, ok? Poi mi telefono subito, hai visto? 11 anni, quindi quanti anni hai tu? 26. No, vabbè. Siamo cresciuti insieme. Vai. Pensa, ancora c'hanno tante cose che non conoscono. Tipo, il futuro? Lucia, tu a che età ti sei sposata? 25. 25? Sì. Vogliamo sapere la durata del fidanzamento prima e ci interessa? 4 anni. Vabbè. Che aspettiamo? Su. Siamo giovani. Vengono a fare catering anche giù. 11 anni. Sì. Come si scrive? Cristina. Vabbè, io ti lascio cucinare perché mi sono interessata a sta cosa. Mi immaginavo. No, dimmi una cosa, ma... Sì. Ah, aspetta. Com'è Carmelo di corporatura? Cioè, grande, grosso? No, normale, robusto. Ok, allora posso dirlo. No, mi preoccupo, sai? è lui che non sta perdendo tempo o sei tu che aspetti? No, entrambi. Comunque è una cosa... Vedete, due. Guardi l'aglio. Sì, ok. Ma noi l'aglio ce lo mangiamo in Sicilia. Ah, quello è così. No, no, lo tolgo. Fate voi, fate voi. Noi l'aglio, guardavamo questo con Lucia, noi l'aglio praticamente lo tritiamo proprio in maniera proprio piccolissima. Ce lo mangiamo. C'è chi lo fa in camicia, ma anch'io lo faccio quando sono solo in casa, mi faccio una pasta bella fortina, anche alle 4 di notte. Quando c'è i moschili, no? Sì, e poi... Però la nostra giuria poi dopo, anche perché poi ci devo passare io da lì, quindi moderiamo l'agliosità. Ci diamo una bella spettinata. vi posso dire una cosa, signorine? Che mancano? Un minuto e trenta, quindi la pasta va anche saltata. Io non volevo dirlo prima perché magari mi stupido con effetti speciali, però hai fatto una salsa che comunque ho bisogno di un po' di tempo. Tu dovevi mettere anche il pomodoro? No, la volevi far bianca, vero? Facciamola bianca, si può fare. Sì, perché fra un minuto mi serve il piatto. Parlami. Mi sei aiutato. Dimmi. Devo fare la pasta con questo. Fallo. Ora no, dopo. Guarda, se tu hai queste splendide pinze stupende che si usano per la pasta, per la pasta lunga, fai così, ti aiuti e poi la scoli. Ma io la scolerai subito, mancano 40 secondi, sai? Interessante. Aspetta, stiamo finendo. posso scolarti là dentro la salsa che il tonno è cotto? Sì. Vuoi un consiglio? Sì. Non emettere di più di così. Va bene. Basta, non gli dico più niente, consigli per il matrimonio. erano queste. Aspetta, 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 ho dimenticato un passaggio importante. Purtroppo il tempo è scaduto. Allora, io l'ho fatto già una volta. Sì, ieri sì. Questa cosa qui. Una volta mi sono permesso di prendere iniziativa e lo farò anche adesso, visto che vi siete un attimo. Io se volete vi do un minuto di più, però ve lo tolgo dopo. Sì, è giusto. Non so se vi conviene. Ma dopo quando? Dopo nella prossima sfida. Pensaci un altro po', ti conviene o no? No, no. Allora, impiattate, stup! Non lo so, è una roba! Stop al tempo! No, è pronta! Non impiattate, stessi del tonno! E' vero, è vero, è vero. E' vero. E' vero. Hai visto? Aspetta. Scusami. Ma che c'è? Ma che c'è? Basta, 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 basta. Il bello del programma, della sfida, è che ci diamo 10 minuti, vediamo che se riusciamo a fare. Vi complicate la vita con cose troppo lunghe. Allora. Allora, rigatoni, per Lucia. Rigatoni con lepre salsiccia, fondo di cottura, avendoci più tempo avrebbe messo il pomodoro e l'avrebbe fatta al sugo. A Natale. Il finocchietto ce l'hai messo? Dimmi di... Oh! No. Ah, certo. Il bello della maccheronata è che può assorbire il sugo, che essendo poi una pasta bucata, lo può contenere anche, che sia cremoso. Qui c'è intanto un condimento tagliato troppo grande. La cottura della pasta la lascio stare, che è ancora indietro di cottura. Manca proprio il condimento, cioè manca un sugo che in 10 minuti effettivamente era impossibile da fare. Io quando ho sentito lepre salsiccia... E proprio qui è veramente complicarsi da solo. In 10 minuti la vedo dura. Ha sentito parlare di matrimonio, l'ho confusa io. A me mi piace il dente, ma... Non da spaccarsi il dente. La salsiccia è buona, ma non manca... Allora, il problema è anche la prima prova, sai, si devono un attimo abituare a quanto volano i 10 minuti con me che ti giro intorno, le telecamere. Sì, perché a qualche fiamma ci sono le telecamere, lo ricordo a casa. Eh, te l'avevo detto. Sai questo piatto dove potrebbe essere presentato così in Germania? Lo vedo, cioè la pasta e poi dall'altra parte, però, non così mescolata, la lepre, che non arriva come lepre, che è un animale nobilissimo e di sapore straordinario. Non c'è l'aggiunta né del fondo, né cosa... Non è quasi un piatto, sono due cose completamente separate. Al di là della cottura sbagliata... Non è uscito, dai, è inutile... Ah, la parola è questa. Allora, di qua invece il problema è un altro. Sì. Che ce la facevi benissimo, perché il tonno cuoce in un attimo, ma questa pasta deve cuocersi in padella con il sugo. Sì. Altrimenti fa l'acqua. Che è quello che ha fatto. Sì. Troccante anche questa pasta. Non sa di finocchietto, però non... Anche qui manca il condimento, totalmente. Non dava, vabbè, giustamente come hai detto tu, risottata. Addirittura, adesso tanto ormai è fatta, sai cosa faccio quando uso il tonno? Che comunque il tonno non dà tanto sapore alla salsa, rimane più comunque di per sé. Prima la salto nel fondo, che ho preparato, e poi all'ultimo ci butto il tonno dentro e lo faccio cuocere mentre la salto. Così non si asciuga e gli faccio tirare su tutto il fondino di cottura. È tutto slegato. È tutto slegato. Farò come gli americani. Eh sì. Dai. Gioco forza. Oppure se mi date un paio di bacchettine, li succhio con le bacchettine come fanno i cinesi. Col progetto così, nella fondina magari piano piano se lo tira. Ma è molto carina l'idea di mettere nell'acqua di cottura il finocchio. Scusate, ma a me piange il cuore di vedere in Italia degli spaghetti in un laghetto. Eh beh, quello è il tempo, dai, non voleva fare quello. No, scusa. Bastava scolarlo bene. Non c'era bisogno di passarlo in padella. No, ma no, permetta, era scolato bene. È che ha fatto un fondo bianco, praticamente, dove il tonno c'era alla fine. Scusa, hai presente. E doveva assorbirlo, praticamente. Vabbè. Allora, diciamo che nel male, l'importante è aver, hanno sbagliato tutte e due, quindi a livello di punteggio. Saremo lì. Sì, sì. Miglioreremo, fidati. Lucia. Rigatone, lepre, salsiccia. Con finocchiette e pomodoro che sono arrivati lunghi. Come si chiama questo formato di pasta a te? I maccheroni, però non sono proprio così. Noi li facciamo a mano. Ok. Sono un po' più corto. Qua sembra uno sciolantchiello questo. Allora, è andata malissimo? Beh, va benissimo, perché siete pari. Tre pari. Ora, sentite me. Due consigli veloci, veloci, e poi glielo fate vedere voi con il prossimo piatto. Pubblicità. Amici di Cuochi e Fiamme, ben tornati in studio. Di solito rientro dicendo, bel fantastico, abbiamo fatto un disastro col primo piatto, non sono andati bene i tempi. Colpa un po' delle telecamere, colpa mia che giro intorno, colpa della fretta. Tre pari, quindi punteggio minimo per entrambi. Allora, ora ci rifacciamo. La prova di manualità l'ha vinta Cristina. Quindi, pesce spada o capretto? Guardami, guardami. Pesce spada o capretto? Pesce spada. Brava. È il pesce spada l'ingrediente per la prova di creatività. Allora, pesce spada, qua la cottura dovrebbe essere veloce. 30 secondi di tempo per fare la spesa, mi raccomando, via. Però dobbiamo soltanto recuperare. Non una sull'altra, ma sulla giuria soprattutto. Cipolla rossa è tanta. Origano, aglio, zucchero. Se tira fuori l'asceto, fantastico, ho già capito. Qua, funghetti già puliti. Alloro, prezzemolo, pistacchio. Finalmente lo vedo, un po' di pistacchio. Arancia, mollica di pane. Oh, qui si vede la terra che viene fuori. Stop! Oh, ora sì. 10 minuti, dimmi. Via! Vai. Dimmi. Pesce spada? Tu mi dovresti aiutare. Un'altra cosa. Mi è caduta il latte. Che palla bianca? È caduto il latte? Mi è caduto il latte. Latte, latte, latte. Arrivi latte. Chiama la latteria, Rick. Ci porta mezzo litro di latte. Ma buca. Quello lo recuperiamo. Allora, come te lo taglio? A dadini piccolino. A dadini piccolino. Ok. Che ci fai tu? Le polpette di pesce spada. Polpette di pesce spada con pistacchi e mandorle e con un po' di arancia. Ci metti qualcosa che lo tiene insieme? No, un uovo. Ok. Col pane lo fai? Sì, sì. Ok, no, perché se no ti dicevo, se no va fatto praticamente tritato. No, va bene così. Le arancia come le usi? Le arancia, la buccia la metto all'interno dell'impasto. Ok. La grattugio e la metto all'interno dell'impasto. Ha un nome la ricetta? Sì, polpette di pesce spada. Pensavo a un nome. Guardate, c'è le polpette alla Carmelo. No? Polpette di pesce spada. No, Carmelo preferisce delle ricette più semplici. Eh, allora, ritorniamo al discorso di prima. Poi avete dei prodotti. Voleva il latte, no? Sì, grazie. È fresco? Lasciamo prima. La munto lei? No, sai, perché magari dieci minuti non è basta, l'ho detto diamo una mano pure noi. Fiammetta dopo prepara qualcosa, eh? E anche Chiara, forza. Vedi di là se manca niente, Ric. Dove? Di là. Serve niente qui? No, grazie. Sicura? Sei? 100%. Meno male. Vediamo un po'. Fiammetta, ho fatto quello coppo duro. Allora, il pesce spada l'ho fatto. Ah, non ho mai detto il funghetto come lo vuoi? Sì, il funghetto come contorno lo faccio. Ok, allora preparati prima il composto e poi fai il funghetto se lo lasci crudo. Lo lasci crudo? No, gli do una... Spadellata. Una spadellata. Accendendo la padella, vero? Certo. Accendi la padella. Quanta cipolla? Fai un agrodolce? Ok. Allora, quella la mettiamo subito benissimo. Quindi cipolla rossa, la sfumi aceto e zucchero. Perfetto. Semplice, vedo pochi ingredienti adesso. Pesce spada lo scotti e ci metti sopra quello? No, lo scotto prima. Sì, lo scotti e poi ci metti sopra l'agrodolce. Quindi fa impregnare questo. Fantastico. Oh, così ci mi piace. Pochi ingredienti. Sempre. Cottura semplice. Come lo vuoi? Ti piace spada? Piglialo, 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 piglialo. Dov'è la siciliana? Beh, certo. Allora, facciamolo così. Tutto in padella, per rimanere sul veloce. Ci vogliono cinque minuti. In padella fate olio extravergine, uno spicchio d'aglio in camicia per due minuti insieme a un mezzo peperoncino e poi ci spremete, sfumate il tutto con un succo di un'arancia intera. Lasciate la buccia, cioè le due e mezza arancia lasciatevele a parte. Salate e pepate, in modo che si sciolga il condimento nel fondo. Ci mettete delle olive, meglio se sono quelle infornate. O comunque delle olive non passate in sala moia. Quelle sott'olio, per intendersi. Fate prendere profumo mettendo anche le due arance all'interno, così prendete un po' di amarognolo e del finocchietto fresco. Appena tutto questo sughetto ha preso sapore, togliete l'arancia, spostate il finocchietto e ci mettete il pesce spada in infusione dentro, glassandolo con il cucchiaio. Se lo volete cremoso, prima di metterlo in bagnetto, lo passate nella fecola, appena appena, scuotendo l'eccedenza. Vi verrà sofficissimo, profumato, agrumato e si fa tutto in 7-8 minuti. Yes, mi dica. Simone, ti stupirò. Hai paura? No, perché parti da quello congelato te. Sì, però, 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 stanno a sentire un attimo. Allora, parliamo di un'emergenza. Però talmente tanta emergenza, che io addirittura di questi blocchi surgelati di pesce spada e ce ne ho sempre due, no uno, due. Per l'ospite. Perché mi piace, esatto. E io faccio così. Torno a casa, mi levo pure il cappotto. Proprio calma, 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 calma. Mi levo il cappotto, lo appendo, vado in cucina, accendo la luce, molta calma. Apro il freezer, prendo queste due cose, e prendo una padella, una padella. Dove metto? Aglio privato del coso interno. Del germo interno. Poi, l'olio, lo levo marone e lo butto. Marone? Maroncino, besh, ambra, lo levo e ci metto un bel pomodorino, magari pachino, tagliato. Poi, acciacco bene in modo che fa. Quindi fate sfumare il pomodoro così che prendo un po' di acqua. E prendo quel monoblocco di chi ha ghiaccio, che potresti dare in testa, e lo metto lì. E lo attappo. Ah, lo decongeli in padella. Certo, lo decongeli in padella. Quello tra il vapore del pomodoro, dell'olio, dell'aglio privato. Un po' di basilico, di oligo, niente. Aspetta, dopo, c'era così. Quando quello lo apri, siccome col vapore si è, lo rigiri, pigli altro pomodoro. A quel punto il magic touch, lei, madame, è già arrivata, che ti guarda. Capper House. Capper House. Bravo, così. Sciacquadino, se ho messo in sale lo sciacquo. Se no, se lo traduco. Se è quello di salato, lo lava. Se è quello in salamoia, non lo mettete. Lui se lo mette, lo lava appena. Bravissimo. Schiaffo là, lo porto lì, bicchiero di vino bianco gelato secco. Con quello lì, ma guarda che t'ho preparato. Ma dove lo trovi un altro? E vada avanti. C'ho il titolo di questo piatto. Si chiama Spadata, perché dopo che l'ha fatto così, era Spadata, 218. Perché? Perché sono i 200 gradi della padella, più i meno 18 del grado. Quindi è una cottura più 218. Stupendo, di escursione. Però viene sempre bene. T'ho fregato? Un po'. Sì, anche l'ospite l'hai fregata. Ma dove l'hai preso questo spesa? Guarda, l'ho pescato oggi per te, amore mio. L'ho pescato per te, tesoro. Allora, passiamo da Chiara, ho partito da lì. Chiara, blog, velocissimo. Allora, io faccio degli involtini velocissimi di pesce spada, ovvero prendo il trancio di pesce spada, lo ho a fetto sottile, faccio l'involtino con il ripieno di pomodori, olive, capperi, faccio un trito con un po' di pesto, anche di basilico, chiudo, passo nella granella di pistacchio, in forno. Beh. Scena, mi raccomando. Sì. Fetta di pesce spada. Sì. Due foglie di limone, prese in giardino, fresche, mettere sulla griglia o nella padella, con stecchino che le tenga unite, girare da una parte e dall'altra, un filo d'olio, mangiare. Stupendo, sì, sì. Per tutto se lo spada è buono, si fa con il pesce azzurro in genere, e lo protegge anche, una spennelatina anche in cottura, se volete proprio esagerare. Bene, chissà quale faranno a casa delle tre. versioni. Due minuti e mezzo. Centocinquanta secondi. Che friggi? Al friggio le polpettine. Oh, le polpettine sono già state passate nella granella di pistacchi e mandorle a filetti. Stanno già friggendo e quindi siamo tutti contenti. Il funghetto, quindi champignon appena prezzemolato, semplice, semplice, ha fatto un padella con poco olio. La scorza d'arancia ammazza. Grattugiata? Sì. Allora, qua abbiamo, questo do un consiglio volante a casa, ma che non ci nientra con la tua ricetta. Quando utilizzate la scorza di agrumi, preferite le grattugie queste, che tagliano e non raspano, perché tendono a prendere solo la parte esterna e non tirano via, come queste qua, anche il bianco, se no bisogna stare troppo attenti. Pensa, ce l'ho. Il pane questo come lo usi? Questo l'ho bagnato nel latte e l'ho messo dentro all'interno della polpetta. Fantastico. Torniamo di qua. Allora, qua mi piace perché adesso ti sei semplificata la vita rispetto alla ricetta di prima, quindi lo spada è un po' alla rossi, cioè aglio, bello strong, olio in padella così, e ora lo copri con quello. Posso darti un trucchettino, visto che prima sono stati un po' cattivelli, adesso vi aiuto. Io farei questo, immergerei lo spada adesso di là, così si impregnazza. Tiralo su da lì e metterlo di là, altrimenti si asciuga troppo. Ok. Qual era? Allora, sei nervosa? Tanto. Sono il tuo preparatore. Rilassati, rilassati. Tu perché cuscire la sera di solito? Per tutti. Per tutti? Anche se in questo momento non si vede. A tutta la famiglia. capiamo. Allora, così vedi, perfetto, signora le fai... Qual è? Qual è? Abbassa. Bello. Posso aiutarla un attimo? pochino, pochino, pochino. Guarda, guarda, tira su, tira su. Così si impregna anche sopra del suo sughettino. Questo qui ti evapora, adesso lo lasciamo scoperto, così quello va via, ti diventa tutto cremoso e fra dieci secondi lo impiatti. L'origoro l'hai messo? Lo metto dopo a crudo, così sul piatto. Preparati, mi servono cinque, due, uno, stop. Brava, così, visto? Fino all'ultimo, poi spolveratina, non esagerare, e ora tutto a me. Fantastico, bravi, si sono rifatti da prima, bravi. Oh, ora sì, che ci siamo rifatti. Lucia, spada con cipolla rossa e agrodolce. Molto semplice, qui effettivamente la lavorazione non è tanto sullo spada quanto nella salsa di accompagnamento, che però, cotto effettivamente così e rimesso in padella insieme, nell'ultimo momento risulta quasi caramellato, glassato, quindi un ottimo abbinamento con un ovio perfetto, buono. Vedo questa barbabietola, meglia, 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 Good. Good. Simplex, molto simple. beh è piacevole è stata essenziale la scelta della cipolla rossa che è dolce perché è ancora semi cruda croccante ancora non è totalmente caramellata però nell'insieme così ci siamo bene bravi passiamo alla polpette di Cristina nella polpette brave ha messo la insalata è vero un pochino ha messo di aromatizzazione la scorza d'arancia passata nella granella di pistacchi e mandorla a filetti fritta e poi c'è lo champignon trifolato molto molto buono siciliano al 100% perché si sente questo questa arancia all'interno pensavo fosse nella panatura esterna invece all'interno si sente molto bene un agrume che rinfresca e fuori la croccantezza quindi ottima ricordiamo gli amici a casa che il tema era pesce spada la giuria lamenta la pochezza dei funchi ha ragione i caramaci quando vuoi mangiare dice così l'agrume è buono dentro a pupitieda perché ovviamente si scalda tira fuori l'olio essenziale e quando l'apri prende possesso il tuo palato beh io avrei aumentato l'agrume nettamente è un'idea e poi francamente se avessi potuto scegliere dato che c'è l'arancio avrei fatto un'insalatina di arance crude qui oppure appena saltate con un filo d'olio io me l'aspettavo con due olivette un po' di finocchio si avrei detto vabbè comunque in dieci minuti adesso hanno preso quello che dovevamo secondo me ci siamo vogliamo questo? si l'uscia pesce spada con cipolla rossa in agrodolce ex polpetta perché non c'è più niente agli agrumi pesce spada di cristina 12 a 10 per cristina bei punteggi bravi 15 a 13 vicine vicine ultima prova allora ratatouille o dolce di riso attenta aspetta è di prova di presentazione quindi pensa ai colori dolce di riso ho provato a buttarti di là ok è il dolce di riso il piatto per la prova di presentazione dolce di riso che non è per forza il ciambellone al riso che ti faceva la nonna fernanda ma può essere un'arancina può essere qualsiasi cosa però avete sette minuti qua niente spesa vi abbiamo dato un sacco di ingredientini differenti dal più cheap diciamo al più fresco forma colore consistenza scelta del piatto precisione questi sono i criteri sette minuti via 15 a 13 per la nipotina che facciamo per portarsi a casa con cammelo il kit di qualche fiamme allora facciamo delle zeppole di riso però un po più moderne non le classiche zeppole di riso zeppole di riso classiche hanno una forma allungata da noi e le facciamo col miele le bagniamo nel miele queste qua invece le faccio una forma un po diversa con dei frutti di bosco la fai a farlo in contemporanea sì con dei frutti di bosco la facciamo petta eh sì sì stai sciogliendo una famosa barretta snack a base di cioccolato che ci fai come lasciò dei tartufi di riso dei tartufi di riso allora qua non so se lo vedete cari miei tre giudici abbiamo del riso cotto in maniera classica quello che si fa con la scorza del limone acqua e latte di solito e anche zucchero a volte mi era soffiato con il riso soffiato ok chiede un po di croccante sai che lei è fantastico adesso veramente vorrei fare un applauso alla nostra concorrente perché noi gli sto mettendo uno per uno uno li accarezza capito uno per uno adesso faccio te adesso sbriciolo te e ora te o te no te adesso sbriciolo te non sono tutti isterici come te eh ma ci abbiamo dieci minuti qui sette sette una volta ora sono cinque eh ma ti l'ansia a me immagino a loro hai capito guarda ecco un altro adesso poi sai cosa farei se fossi te come mi sta mettendo un'ansia ma un'ansia ci gode proprio io gli avrei ti avrei risposto così guarda così esatto così no voglio poi spiegare una cosa dopo spiego ma secco così li vuoi frullare sì ma lei sa che grandi dolci di natale posso già credo che sia abbastanza buono cosa vuoi farci con il cucchiaio questo non ne vuole che vuoi non posso non mi fare guarda sai che se buttavi tutto insieme facevi così si sbriciolavano un attimo con cosa li leghi con quello con il sì ok ci metto il cioccolato la nutella ok dai veloci perché ho paura che tu faccia tardi allora torno da te mi dicevi le fai un po allungate come se fossero delle canelle sì solo di riso solo di riso ok come le servi allora le servo con della mentuccia fresca della cannella che dovrebbe essere messo all'interno anche dell'impasto delle delle zeppole ok le hai messo alla cannella che richiama anche l'esterno con la cannella che gli metto ma queste le lasci così pulite sì e perché stai scaldando no perché queste le metto sotto ok faccio tipo un letto con con i frutti di bosco e di sopra taggio le mie zeppole fantastico semplice con le miele cosa con le miele sì avete capito se siete ammaliate adesso però sì devo dire sì tre punti non sono niente vai tu hai ancora il campanello lindo sì vi metti l'ansia lo so cosa questo e questo dove dove dimmi dentro le due ciotole dai 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 Lucy dai allora cacao devi farlo per la decorazione lo setacciamo così rimane fine facciamo le cose fatte bene hai già pronti tre cestini avete due minuti e dieci secondi circa a disposizione per la cronaca sono centotrenta secondi circa ho una poi granella di nocciole due due dai paga la 7 di abbondiamo dagli la forma dagli la forma perché quella conta adesso ce l'hai fatta sei tranquilla questo si raffredda e lo lavora anche meglio mannaggia prima mettili qui va bene ma sbuffi anche guarda vai fai te no non sbuffo per quello figurati dai prima si prepara e poi si mette sul piatto altrimenti si sporca tutto tu qua sei più tranquilla vedo eh si hai aggiunto del liquido la si un po' d'acqua bevi un po' di brodino ma li frulli o li lasci così? no ora gli do una frullata perché il tempo prendi il fumatore valla a comprare prova la corrente scusa devo spiegare una cosa sembra facile star qui eh vengo da voi va mi porta alcun mirtillo D ti ammette prego devo spiegare una cosa importante che magari qui i tempi non sono quelli giusti abbiamo capito ma i tempi della vera cucina di casa sono quelli certo quando uno con gli ingredienti dialoga cioè lei dialoga col prezzemolo con le cose con calma li sposta non ha la tempistica del cuoco c'è un solo cuoco in Italia che fa non diciamo come lei ma insomma così è Fulvio Pierangiorini che è noto che parla con gli spinaci bene ehm riccardo rossi fa i dialoghi con le piantine di rosmarino hai finito brava mettila da cammelo cosa ti dice oh 10 secondi dai ci riesco ci riesco si 7 6 5 4 3 1 2 3 metti io lì sull'azione dai la mia domanda metti la mano così la mia domanda hai aggiunto acqua era una domanda con la risposta mamma come mi ha guardato ho rischiato veramente di dover rifare il colore alla macchina ho bisogno un attimo di rilassarmi pubblicità amanti dei fornelli bentornati in studio cuochi e fiamme dove abbiamo impasticciato un po' la fucina perché le due nostre amiche siciliane hanno elaborato come prova finale un dolce di riso la situazione è 15 a 13 per Cristina su Lucia sulla zia Lucia zia acquisita anzi ecco lei per addolcire la giuria ha fatto queste pulpet questi tartufi con dentro waffel riso soffiato crema di nocciola spalmabile glassati con uno snack sciolto al base di mu e nocciole leggerino eh una botta di calorie che ti dirò avrei preferito più piccoline proprio tipo tartufino dolce però devo dire ha causato il piatto con i tre posti per i tre tartufi quindi non mi piace questo cestino che lo vedo un pochino più rustico utilizzato con questo piatto colori vabbè colori si c'è il bianco sotto e poi tre colori del cioccolato che comunque risaltano quindi non è particolarmente dettagliata cioè molto semplice sembri la mia lavatrice quando faccio la centricula a 600 giri la centricula con la 1.2 sì questo piatto è stupendo stupendo sì questo cestino mi permette di non sporcarmi di cioccolato mentre con la catapulta guarda ah hai capito e lo riposo poi hai capito è perfetto è fatto benissimo non c'è una sbavatura solo guarda qui la levo io però è mi piace da morire mi piace il blanche col marron quindi per me questo piatto va benissimo perché è un piatto ricordo di presentazione dentro ci può stare pure il pesce spada I don't care Riccardo adora le cose simmetto pulite sì esatto sì è una cosa molto sexy perché tu ne mangi mezzo poi lo guardi e così poi mangi l'altro mezzo c'è un dialogo quindi scuola di seduzione è pronta fiammetta fada anzi vai fiammetta fada è interessante e diciamo in mezzo dopo la dolcezza di questo qui c'è questo che è forte quindi ci sono e quello te lo giochi che finisce il primo sì sì è tutto molto sexy carino bene vabbè allora vado via no vabbè era vero economia di ecco di timer allora sentiamo che dice che la nipotina Cristina ha fatto una rivisitazione delle zeppole perché normalmente lei serve con il miele abbinandola con tre cose cioè con il miele appunto con i frutti rossi e riportando quelli che potrebbero essere dei sapori degli odori che si trovano all'interno allora qui intanto bellissimo il piatto risaltano effettivamente tutti i colori l'abbinamento delle varie cose carino peccato qua che i frutti rossi ovviamente hanno perso acqua hanno ceduto un po' però cromaticamente ti attira questo piatto poi la crocchetta sa anche un po' di bruciacchiato di croccante quindi ti ispiriamo ci si vede anche il riso perché il tema ricordiamo è dolce di riso purtroppo l'esecuzione è borracciata perché qua abbiamo delle precisioni importanti proprio sui tre pilastri di riso pilastri beh questo per sapere che cos'è allora mettere di api girobaghe ah miele esatto chiamalo miele dove uno fa così allora qua l'errore purtroppo è questo lei ha detto giustamente la verità cioè che i frutti hanno perso mi hai detto la frase tua prima ha perso l'acqua ha perso l'acqua si sono come diciamo in Roma squacquarati ecco diciamo squacquarati stai considerando che fare un dolce col riso è un bel problema perché francamente è il più povero diciamo delle cose questo qui che è un dolce un po' stile magna grecia nel senso che c'è il miele poi questa cosa pucci mangi così è simpatico è irrilevante il fatto che qui tutti i frutti rossi abbiano asciatto l'acqua perché non è colpa sua no? però diciamo che ci sono delle imprecisioni considerando che io detesto i dolci di riso trovo che non è male allora ci sono tre punti di differenza si parte come sempre da Lucia con lo chiamerei Ambrosio questo dessert questo è anche un modo per far pulizia della dispensa dopo Befana che ti regalano tutte le calze con gli snack li riproduci questa è Cristina Zeppolina per Carmelo 13 a 7 per Lucia 26 22 ti ha sorpassato ma fammelo un sorrisino ora ti abbracciami hai vinto un kit di qualche framme grosso così così cuscina ancora per più gente che magari fra un po' ci scappa anche il carmelino sarebbe l'ora venite con me dai 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 ci sono andate bene ci siamo ripresi nel finale domande le iniziamo da capo con quattro nuove sfide state con noi a qualche fiamma bravo 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 viva cappadito in tempo cappadito in tempo cappadito in tempo per ora e paulino è gerata propone propone ciao tipo Grazie a tutti.